... Mister, primi punti, prima vittoria, come è andata la partita? Beh, è stata una battaglia, ma insomma aspettavamo questi punti perché ce li meritavamo, dopo tanto sacrificio, dopo tante volte che ci siamo andati vicino, tanti regali che avevamo dato alle squadre avversarie, per cui questa è una partita che abbiamo affrontato con tanta concentrazione, avevamo anche tre assenze importanti che però io non considero mai perché comunque è il discorso della squadra, dell'organizzazione che dobbiamo mettere in campo per portare via questa vittoria. C'è stata una grandissima concentrazione e soprattutto una voglia di vincere da parte dei ragazzi, quello che avevo detto prima della partita era proprio questa cosa qui, basta con i tanti complimenti e zero punti, oggi dobbiamo proprio lottare per cercare di prenderci qualcosa da questa partita. È stato così, abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo avuto un pizzico di fortuna anche, devo dire che il Foligno è una grandissima squadra, ha perso il derby con il Nursi, ha perso con noi, altrimenti sarebbe stata sicuramente tra le prime, per cui sarà difficilissimo andare a prendere punti sul loro campo, noi ci siamo riusciti, ci godiamo questa vittoria e pensiamo già da adesso alla prossima partita. Grazie, in bocca al lupo. Prego, grazie. Grazie.